Ciao a tutti, sono Davide. Allora oggi il nuovo progetto LEGO 10.281, il bonsai, l'alberello della LEGO. Bene, è un set che non avrei mai pensato di acquistare perché non è nelle mie corde, però è capitato un'occasione al negozio nella mia videoteca, mi era dato un prezzo stracciatissimo perché era l'ultimo e voleva liberarsene e l'ho acquistato. Allora, il set è 878 pezzi, poi alla fine, guardando l'immagine sembra carino, andiamo ad aprire la confezione. Perfetto, qua c'è un pezzo a parte, anzi due, bustine naturalmente numerate, quindi la comodità del montaggio non a prezzo. Immagino che ci sia la possibilità di scegliere se farlo con la chioma verde o con la chioma rosa, adesso alla fine deciderò in fase di montaggio. Andiamo a dare un'occhiata al manuale, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ok, perfetto, questo lo mettiamo da parte, diamo un'occhiata al manuale, bonsai master, qua c'è le due immagini del bonsai, le due differenze, alcune istruzioni su come fare le piantine, il togli lego classico e poi dopo ci comincia con il montaggio. Bene, ci vediamo alla fine, che vediamo, tiriamo due conclusioni e vi dico com'è il set della lego. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, alla fine è venuto fuori verde, però visto che l'intercambio, l'interscambio fra i rami non è difficile, basta soltanto sfilare e infilare i rami, ho montato anche quelli rosa, così da potervi far vedere le due differenze. Allora, così è verde, vi faccio vedere, così è solo verde e senza la fioritura. E adesso vi faccio vedere, allora, questa è la versione rosa, guardate, ve lo faccio girare con la mia splendida girella, ecco qua, torniamo a far vedere. Allora, alla fine non ci è voluto tanto, ci è voluto un'ora e mezzo, un'ora e mezzo a farlo di fila. È molto bello, io direi che non ci siano dubbi che sia più bello in rosa. Niente, simpatico, non lo conoscevo questo set Lego, ho visto che ce ne sono anche diversi altri, mi piacerebbe fare le orchidee, il vaso delle orchidee, ma magari più avanti. Adesso ho altri, ho un altro paio di set da metterci le mani sopra, che sono già pronti per il videomontaggio. Va bene, non mi ricordo se ho detto il prezzo, comunque sul sito del Lego 49,90, quindi 50 euro, è ancora disponibile. Quindi se vi piacciono le piante, ma non ci sapete tenere dietro o non avete il pollice verde, questa è una soluzione alternativa. Va bene, allora vi ricordo che se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale che per me è molto importante. Direi che ci possiamo vedere tranquillamente a un prossimo videomontaggio. Un saluto da Davide, ciao a tutti.